Musica Salve a tutti ragazzi sono Caso90 e ricordoci qua su ScriberNautsUnlimited Edition number 1,2,3,4,5 Cominciamo subito con questa cacchio di cosa E mi avete detto qua, mi avete detto Ezio di mettere un mostro, un qualcosa di tridimensionale Io metto Godzilla, innocuo, così non ammazzare nessuno Gorilla innocuo, via Qua sullo schermo Ok, Ezio aveva ragione, grande Ezio, tv, 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 tv Fatto questo adesso, chi cacchio dobbiamo aiutare ancora? 9 su 10, ma ne manca uno Manca un bastardo, e dov'è? Velocissimo Ero velocissimo Ok Ah ok, qua 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 Che è sta roba? Maga Ah, assaggi ai miei stuzzichini magici per le serate del cinema Ah ok E mangiamoli Consuma Bleh Oh, sono diventato che figo Eheheheh 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 Un panino, sono diventato un hamburger Ok, livello completato, più o meno Ah no, due su due, è vero Vabbè, però entriamo qua dentro Scuola a Calamaio Vai Certo che entro, scusa Il costume più bello del mondo Venuta a scuola a Calamaio Tutto distrutto, che schifo Cioè, se c'è la mette Schifo, davvero Dai Perché ogni volta mi fa vedere Piano 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 il mondo Da dove ne sto Ah, pensavo Ah, quello è un bullo Però mo' lo Err Con i miei poteri da panino Vivente Ok, quelli Tutti questi hanno bisogno d'aiuto Perfetto Allora, in cima Al pennone dovrebbe esserci qualcosa A cui fare il saluto Una bandiera Probabilmente Una bandiera Vediamo un po' Bandiera I P Si scrive così Via No, ma l'ha cambiata Vabbè Comunque sia È giusto Te che vuoi Metti al mio interno Una bestiola per la classe Qualcosa Qualcosa di innocuo Tigre del Bengala Piccola Oh merda No, 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 no Aspetta Ah, dentro De No Questa Mi attacca Mi segue No, non mi segue più Fanculo Come si fa a metterlo dentro? Mangia ti va a metterlo Eh, qui Qui Ok Ok Fanculo Eh Come faccio Crea oggetto Eh Topo Un topo Magari il topo lo vuole Ok, infatti Non voleva la tigra del bengale Questo è il fatto Ok Un'altra cosa è fatta Poi Tu che vuoi Voglio far ridere Voglio far ridere Divertente Tè Tè Divertente Eh Molto divertente Un pagliaccio diventato Ok Perfetto Bellissimo Voglio incontrare qualcuno Che sta facendo carriera Eh Come si chiamava Aspetta I Cacchio Mi viene Il tizio di playboy Non mi viene il nome Eh F F Non mi ricordo No, ok Non credo ci sia Peccato Che cazzo vuoi incontrare? Eh Avvocato Avvocato Vecchio Non è molto vecchio Ciao Eh Ma anche a scuola da voi Succede così Giusto per saperlo Allora direi Prima di andare avanti Di fare questa Via Eh Sperimento scientifico Fa la vita Lo studente A vincere il concorso Usando Creando una creatura Bellissimo Anzi scusate ma Sono più o meno Di nuovo Raffreddato Quindi se mi sentite Un po' Così è per quello Il giorno dell'annorale Dove Vice Creando una forma Di vita Comincia dando Sostanza nutritiva All'emblema Mio dio No Dove è andato a finire Il mio Uffa Il mio vestito Da 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 hamburger Gigante Lo volevo Qualcosa da mangiare Cibo per pesci Pera Pera per pesci Pesca Capo Vediamo cosa ne esce Capo Parte anatomica Che diavolo è sta cosa Oddio Cos'ho creato Un mostro Adesso ci vuole Del calore Per farla crescere Ok Una stufa Direttamente Vai Tiè Oh mio dio Vai via Sta cominciando a crescere Poi dovrai darle Ciò di cui Il corpo di una creatura Ha bisogno Vitamine Sicuramente Anzi Proteine Quelle di Bear Grill Proteina Tieni No Eh Forse Braccia Un'altra No Ma le ho date le braccia Dopo dovrò aiutare Inserirsi nella società What? Alieno Ha creato un alieno Sta veramente iniziando Dopo dovrò aiutarli Inserirsi nella società What? Eh aspetta Ok aspetta Usa Aggiungere aggettivo Socievole Ok Stanno chiamando Che cazzo Ma fa Dovrei darle un nome Metti le lettere sulla tela E premi l'interruttore E che cazzo Dove sono le lettere Ah Usa blocca punti Crea oggetto Giordano Lo chiamiamo Germano Anzi Via No Cazzo di lettere Devo mettere Usa blocca punti Usa blocca punti Crea oggetto E basta Vabbè M M M Beh I I Vediamo un po' Lo chiamiamo con un nome Differente da tutto il resto Della società N N Ok Mi C C Facciamo un po' Non manca ancora poco A Ok Fatto Minca Perché sei bruttissimo Quindi Interagisci Via Nome Fantastico Minca è nata È nata una minca Ragazzi Sappiatelo Ale Ho vinto un premio Mio 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 Accogli Little bitch No Voglio scappare col premio Volevo scappare Non posso però A quanto A quanto sembra A quanto sembra non posso Sperimento scientifico Riuscito Bellissimo Sei stupendo come pochi Zio Nel vero senso della parola Tu Bullo Per me non è sicuro Uscire da questo armadetto Con un bullo in giro Non fargli del male Aggiungi aggettivo Bravo Bruno Basso Bavosa Buffo Molto buffo Devo dire Vabbè comunque Aggiungi aggettivo Non c'è tipo Buono Forse Buono Ok Puoi uscire zio Esci Buono Adesso Ecco Ma che Che io faccio A non fargli Dal male A sto tizio Adesso Ah Se n'è andato Se n'è andato Boh Se n'è andato Palle Che faccio Per mandarlo via Colpo di genio Così A schifo Ragazzo Pesta quest'altro Via Ragazzo Persona Tieni Pesta No Non c'è più nessuno Come faccio a dirglielo Non c'è nessuno Guardate come è slitto Basta Comunque Se n'è andato Che cacchio vuole ancora Eee Boh Creogetto Palla Da calcio I bulli ne vanno matti Tieni Non tu Testa di cazzo E' buono Guardalo Esci Vabbè Ragazzi Mi aiuterete voi Sappiatelo Perché non so Non so come farlo uscire A quello lì Proteggimi Dalle palle avvelenate Creogetto Scudo Tieni Tutto tuo Aiuto Aiuto Ok Che è quella roba Boh vabbè Protezione da palle avvelenate Te che vuoi Niente Metti qualcosa nella mia pentola Per il pranzo degli studenti Non è il ragazzo perché parla È la tizia Qualcosa Metto qualcosa nella pentola Basta Ok questo è brutto E vediamo un po' Eeeh Piccione Tutto tuo Buonissimo Ebbè Grazie al cazzo Boh è morto Mio dio Il pranzo è servito Si certo Beh no Palla da discoteca Cosa ci fanno qua Palle da discoteca Vabbè Andiamo avanti Cosa vuoi tu Questo parco giochi fa schifo Ha bisogno di attrazioni più interessanti Ci penso io Montagne Russe Tiè Accontentato Minchia Eeeh Che cazzo Questo si che è un parco giochi Ebbè Grazie al cazzo Comunque ragazzi Eeeh Ottimo lavoro Ok Vai da Lili Andiamo Sblocchiamolo Nuovi livelli E via Tieni Lili Una stellina per te Sparaglia 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 Contentissimo Ok perfetto E' un dinosauro Ungabunga Zio Ungabunga Boo Smirato come pochi Ragazzi Cristo ci aveva davanti Ha sparato In aria Vabbè E mentre questa sta Sta diventando Pian pian di pietra Chissà cosa mangia Colazione Per diventare così Comunque Abbiamo sbloccato Un altro livello Come Che è successo Perché sono qua Perché sono qua Ancora Un'altra Ah abbiamo sbloccato Un altro livello Ok E' quello dei pirati Dai zio Aoi Andiamo dai Già te aiuto Via Boo C'è un casino C'è la barchettina Vai scopia Lì zio Arrivo anch'io All'avventura E questa qua Ancora qui Ovviamente Non ho visto Cosa Lì si è impietrito Quindi Credo che Lì sotto Non abbia bisogno Di Vagisir crema In questo momento Ok ragazzi Direi che Per il momento Terminiamo qua Ditemi Come fare A superare Quella roba Quello che diceva Che non riusciva A uscire Dall'armadietto Se avete qualche idea Fatemela sapere Nei commenti E ragazzi Spero che vi sia piaciuto Ci vediamo presto Qui di nuovo Suscribete al Nuts Unlimited Ciao a tutti You see that Yes I cannot believe this Very good Let's go Let's go Let's go Incoming Let's do this That's what I'm talking about I am credit to Tim That was all you Thank you Here I come Come